Eccoci qua Alessandro Cane che oggi ha fatto il birichino perché praticamente non sono riuscito a dormire stanotte e sono andato a lavorare stamattina e ho cominciato a star male e a pomeriggio sono andato allo studio a dormire invece che a casa sono andato allo studio e qua mi ha battuto l'osso, sono andato allo studio e perciò mi ha svegliato una mantra di vecchi urlanti però erano le 6 ormai, le 7, non ho mica sentito perché praticamente dove ho lo studio non potrei neanche registrare mi ha salto di giorno perché c'è una marea di invecchi che continuano a urlare, a parlare, a far casino e basta qua c'è un grosso ristoro, la loteria, ho fatto una bella dormita comunque dai, proprio una città del merda così mi sa che bisognava proprio cercarla, non c'è niente da visitare, a parte andare a cociuffù, vabbè quella roba lì ma cioè nel raggio della città non c'è niente, anche se c'è il centro storico su quattro cagate che fa anche pietà cioè la zona più storica che c'è nella città è dove c'è il ristorante, vedete voi insomma adesso mi prendo delle melanzane così mi faccio il parmigiano, sperando che ci siano sperando che ci siano